Sono il salutatore e ti chiedo... Salutatore! Esatto, ti chiedo... Che figata! Grazie, un saluto a tutti i tuoi fan, ai sostenitori, in questo momento è importante anche un messaggio. Allora, io non vorrei avere fan, vorrei avere amici. Io non vorrei avere fan perché vorrei avere vicino sempre delle persone che mi dicono quando sbaglio, che mi dicono che devo aggiustare delle cose, che mi tengono fuori dalla zona di comfort. Quindi, se mi volete bene, aiutatemi a fare il meglio possibile per il Partito Democratico e per il Paese. Ecco, io ti ringrazio e ti chiedo un saluto speciale per una persona speciale, Rosario Fiorello. Fiorello? Devo dirti una cosa, l'ho incrociato 20 giorni fa in un corridoio della Rai. Ho provato a fermarlo, poi mi sono emozionata. Allora, adesso che mi vedi, sappi che ti rincorrerò la prossima volta. Ecco, lui, vai. Bacio, bacio, bacio a Fiorello. Lui dal 16 ricomincia, e lo puoi trovare lì, a Via Ziago, dove c'è la Rai. Ero proprio lì. Ah, ecco. Ero proprio lì. Ho avuto la tentazione di rincorrere, ma mi sono un po' emozionata. Credo che sappiate che sono una donna timida. Ecco, questo è risaputo e ovviamente la battuta. In bocca al lupo alla tua trasmissione, a te. Buona vita a tutti i tuoi collaboratori. Successi, idee, ottimismo, positività in un momento di cui abbiamo tanto, tanto, tanto bisogno. Più del previsto. Ecco, io ti ringrazio e una sorpresa per te, la manina del salutatore per salutare Fiorello e tutta Viva Rai 2. La posso usare in campagna elettorale? Certamente. Perfetto, grazie. Viva Rai 2. Viva Rai 2 e per tutti. Ciao Fiore. Ciao. Grazie, ciao.